Uno dei modi migliori di imparare una lingua straniera è attraverso le serie TV e oggi voglio darvi qualche consiglio su come farlo e su cosa guardare per imparare l'italiano. Benvenuti su Podcast Italiano, canale YouTube e podcast per chi impara o ama la lingua italiana. Ti ricordo di attivare i sottotitoli e, se ti interessa la trascrizione PDF con il lessico difficile spiegato e tradotto, dai un'occhiata al mio Podcast Italiano Club. Verso la fine del video consiglierò alcune serie in italiano, quindi guarda tutto il video. Prima voglio fare alcune considerazioni generali. Prima di tutto, perché le serie sono un buon modo di imparare una lingua? Le serie TV sono ottime per imparare una lingua perché sono una fonte inesauribile di input comprensibile e coinvolgente. Forse avete già sentito parlare della teoria dell'input comprensibile, formulata dal linguista Steven Krashen, secondo cui l'unico vero modo di imparare o meglio acquisire una lingua è attraverso input comprensibile, cioè testo o audio, che siamo in grado di capire. L'input non deve però essere solamente comprensibile, ma idealmente anche interessante, coinvolgente, appassionante. Compelling input lo chiama Krashen. Se una serie possiede queste due caratteristiche, quindi la capiamo e ci appassiona, diventa un'arma micidiale di apprendimento, considerando la quantità incredibile di contenuti su piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video, RaiPlay, nello specifico per l'italiano, e molte altre. Le serie poi sono un ottimo modo di vedere come interagiscono tra di loro le persone in una conversazione. Ci permettono di capire in che modo i madrelingua comunicano tra di loro. Attenzione, la comunicazione non si limita alla lingua in sé, ma riguarda anche il linguaggio del corpo, i gesti, le espressioni facciali. Ogni cultura ha il suo linguaggio paraverbale, come viene chiamato noi italiani, lo sapete, gesticoliamo molto. Io quando imparavo l'inglese invece ero molto affascinato dalle espressioni facciali dei nordamericani, che trovo piuttosto diverse dalle nostre. Le serie sono ottime perché durano tante puntate, tanti episodi, e ci danno modo di abituarci gradualmente ai personaggi e a come parlano. Per fare un esempio personale, quando guardavo in inglese Breaking Bad, quindi un secolo e mezzo fa, qualcosa del genere, all'inizio facevo molta fatica a capire Jesse Pinkman per il modo in cui parlava. Col tempo però mi sono abituato sempre di più. Ecco, in una serie abbiamo molto tempo, molte puntate e stagioni per abituarci gradualmente a come parlano i personaggi, al loro slang, al loro accento, e questa è un'ottima cosa. Io stesso, per imparare lingue come l'inglese, lo spagnolo, il russo, ho usato molto le serie tv e mi sento di darvi qualche consiglio in merito. Numero 1. Scegliete ovviamente una serie che vi piaccia davvero. Ricordatevi che l'input deve essere coinvolgente e appassionante o almeno interessante. Questa, secondo me, è la regola d'oro da stamparsi in testa. Vi consiglierei però di non disdegnare produzioni che magari non guardereste nella vostra lingua. Anch'io ho guardato serie o film che, artisticamente parlando, non sono esattamente dei capolavori, ma l'ho fatto per imparare le lingue e penso che ciò sia totalmente accettabile se il nostro scopo è, appunto, l'apprendimento linguistico. Il valore artistico passa in secondo piano, secondo me. Numero 2. Usate i sottotitoli. Secondo me sono uno strumento potentissimo e a volte, come vedremo, fondamentale. Io li ho sempre usati, anche a un livello avanzato, perché trovo che aiutino a creare un legame tra lingua orale e lingua scritta. E non ci vedo niente di male nell'usarli. Ora, io vi consiglierei di metterli in italiano, se potete, perché lo trovo più utile, ma se avete un livello basso e la vostra comprensione non è sufficiente, può avere senso all'inizio usare anche i sottotitoli nella vostra madrelingua. Io iniziai così con The Big Bang Theory in inglese circa 50 anni fa, a bei tempi. Ah, una cosa che vi posso consigliare è anche di attivare se c'è l'audiodescrizione. In questo modo, nella traccia audio, sentirete anche una voce narrante che descrive, nei momenti di silenzio, ciò che sta accadendo sullo schermo. Campidoglio. Cenaglia, nel suo spezzato grigio, attraverso e impettito una grande sala con imponenti quadri antichi alle pareti e una fila di busti di marmo appoggiati su apposite colonnine. Entra nella stanza della commissione. Allora? Allora cosa? Gli ordini del giorno. L'audiodescrizione è fatta per i non vedenti, ma è molto utile anche per chi impara una lingua, perché alla fine si tratta di input comprensibile in contesto. Ottimo, provatela. A proposito di sottotitoli, c'è un modo di attivare i sottotitoli doppi se usate Netflix. Si tratta della fantastica estensione per Google Chrome, Language Learning with Netflix. Io la consiglio sempre perché è davvero ottima e ha un sacco di funzionalità interessanti. Come ho detto, potete attivare i sottotitoli doppi, quindi anche se non capite bene i sottotitoli in italiano avete un aiutino, per così dire. Potete vedere il significato delle parole che non conoscete. Potete passare da un sottotitolo all'altro premendo le frecce, frecce, frecce sulla tastiera. Potete vedere l'intero script di lato e addirittura stamparlo. È davvero un'estensione fantastica, ve la consiglio davvero tantissimo se usate Netflix. Una domanda comune è ha più senso guardare produzioni italiane o straniere doppiate in italiano? Ma dipende, cioè se vi interessano storie ambientate in Italia, con attori italiani, ha più senso guardare produzioni italiane. Io personalmente lo prediligo quando imparo una lingua, perché mi interessano contenuti culturalmente autentici, che vengono proprio da quella cultura, diciamo così. Tuttavia, da un punto di vista di apprendimento puro, può avere molto senso guardare film o serie straniere doppiate in italiano. Prima di tutto perché conoscete già la trama, la storia, il che vi permette di concentrarvi esclusivamente sulla lingua. Poi considerate anche che generalmente il doppiaggio in italiano è buono, che che ne dicano alcuni. La scuola di doppiatori in Italia ha alle spalle una lunga tradizione e per questo da noi è molto comune guardare serie doppiate in italiano. E anche per questo forse non sappiamo così bene l'inglese, ma questa è un'altra storia. Ecco, voi potete usare ciò a vostro vantaggio e guardare produzioni straniere doppiate in italiano, magari anche cartoni animati che comunque sono già doppiati anche in originale. Un aspetto interessante è che il doppiaggio ha una qualità audio molto molto chiara e inoltre i doppiatori sono professionisti dell'edizione, che parlano in maniera chiara e non regionale. Se ti interessa imitare un accento standard, l'italiano dei doppiatori è il miglior modello di pronuncia che ci sia. Oltre che podcast italiano. Scherzo, non sono così arrogante. Lo svantaggio forse è che l'intonazione dei doppiatori è super artificiale. È come se il doppiaggio avesse sviluppato una propria prosodia, una propria melodia ed espressività esasperata, esagerata, che nessuno in Italia davvero quando parla. Qualcosa del genere. Dall'altro canto, lo svantaggio invece delle produzioni italiane è che spesso gli attori hanno degli accenti regionali più o meno marcati. In molti casi di Roma, dato che è lì che si produce la maggior parte di serie TV. TV? TV. In realtà ciò può anche essere interessante per chi impara l'italiano, perché nel nostro paese, come sapete, avere un accento regionale è la norma, non l'eccezione. Voi che pensate? È una cosa che vi dà fastidio o pensate che sia una ricchezza? Fatemi sapere. Ci sono poi produzioni molto famose che sono proprio in dialetto e che non è così utile ovviamente per chi impara l'italiano, ma può essere comunque interessante. Ho dialetto non lo riguarda più. Va. Ma secondo voi, io parlo con mio marito e chi lo sa capace? In sostanza, provate a fare entrambe le cose e ditemi che cosa preferite nei commenti. Siamo finalmente arrivati ai consigli. Ah, in italiano usiamo la parola consigli e non raccomandazioni. Parlerò della differenza tra consigliare e raccomandare nell'episodio di approfondimento del mio podcast esclusivo Tre Parole che trovi solamente sul Podcast Italiano Club. Prima ancora dei consigli di serie TV specifiche. Dove possiamo guardare le serie? Ovviamente sulle piattaforme che conoscete già bene, Netflix, Amazon Prime Video. Vi consiglio anche RaiPlay, piattaforma streaming della Rai che ha un sacco di roba ed è totalmente gratis. E vi consiglio anche Mediaset Play e Team Vision. Queste sono le principali piattaforme di streaming, anche se alcune cose a volte le trovate anche su YouTube. Ora, i limiti di queste piattaforme lo sapete che fuori dall'Italia o sono bloccate o il catalogo è molto limitato per questioni di diritti d'autore. Se non intendete trasferirvi in Italia per guardare RaiPlay o Netflix, la soluzione è una VPN come lo sponsor di oggi. NordVPN. Una VPN è un sistema che vi permette, in parole povere, di navigare su internet come se vi trovaste in un paese estero. Vediamo come funziona su Nord. È semplicissimo. Scegliete un paese dalla mappa e basta, avete fatto tutto. Ora è come se vi trovaste in Italia o il paese che preferite. In questo modo siti come Netflix o RaiPlay vi mostreranno tutto il loro catalogo italiano. Ho provato, personalmente funziona benissimo. Io per esempio sto imparando il portoghese brasiliano e con Nord posso accedere a tutto il catalogo di Netflix Brasile, che è una figata. Ah, e lo posso fare da tutti i dispositivi, fino a sei temporaneamente. Anche le Smart TVs se ne avete una. Quest'anno tra l'altro è il compleanno di Nord, che significa che se acquisterai il piano biennale, quindi di due anni, riceverai un mese aggiuntivo gratuito e un regalo a sorpresa. Puoi provare NordVPN per un mese e se non ti piace puoi chiedere il rimborso. Segui il link che troverai nella descrizione e tra i commenti e inserisci il coupon PODITA per iscriverti al servizio. Vediamo ora le serie TV. Vi devo confessare una cosa. Io non guardo molte serie TV e film in generale e soprattutto in italiano, quindi ho chiesto a voi che imparate l'italiano. Ecco quindi i vostri consigli. Vediamo le cinque serie che avete menzionato più spesso. Numero 1. Il processo. Il processo è la serie che avete scelto di più e per chi non la conoscesse, tra cui mi metto anche io, almeno fino a due giorni fa, si tratta di un thriller ambientato a Mantova. Il pubblico ministero Elena Guerra si trova ad indagare un omicidio di una ragazza di 17 anni e ad affrontare nell'aula di un tribunale l'avvocato penalista Ruggero Barone. Dura una stagione, la trovate su Netflix e Mediaset Play. Linguisticamente mi pare molto adatta per chi impara l'italiano, non avendo elementi troppo regionali. Undici minuti. Più che sufficienti per compiere un omicidio nel giardino di Palazzo Tè. Una donna l'ha raggiunta, vicino alle vasche. Undici minuti. I sottotitoli sembrano essere molto accurati, quindi provatela. Numero 2. Suburra. Suburra è una serie ambientata a Roma, è appena finita, tra l'altro, di genere criminale. In Italia ci piacciono le serie criminali. È stata infatti definita la risposta italiana narcos, addirittura. La serie si ispira a fatti realmente accaduti e parla fondamentalmente di battaglie tra organizzazioni criminali, nelle quali sono immischiati anche politici e il Vaticano. Nella serie l'italiano è mischiato il romanesco, che non è una lingua regionale come il napoletano e il veneto, ma è un modo di parlare italiano, ci tengo a specificarlo. Ma che cazzo hai fatto? Niente, che ho fatto? Hai menato in Anacleti? Ma molti gli dice a Samureli, cazzo, io tu figlio. No, mi dice che sei un coglione, quello che dice tutta Roma. Molti di voi però lo trovano difficile da capire, ma i sottotitoli comunque sono in italiano, quindi vi potranno aiutare e forse può essere utile seguirla con i doppi sottotitoli. Ah, è presente l'audiodescrizione e la trovate su Netflix. Baby è un dramma adolescenziale prodotto da Netflix che si ispira a uno scandalo di prostituzione minorile che ha avuto luogo anch'esso a Roma. La serie tratta anche tematiche come l'omosessualità, l'abuso su minori, la violenza sessuale. I protagonisti parlano in italiano standard e in romanesco, in base alla situazione, come anche in Suburra. Che distoglie lo sguardo. Sono d'accordo, sì. Appunto. Se tu porti una a casa io non penso che te li impazziscano di gioia. Vabbè, tanto non c'è pericolo. Quindi i sottotitoli vi aiuteranno. Ah, è presente l'audiodescrizione. Numero 4. Scam Italia. Anche Scam è un dramma adolescenziale di quattro stagioni prodotto da Team Vision e disponibile anche su Netflix. Si tratta della versione italiana di Scam, che è una webserie drammatica norvegese che esiste in tante lingue. Ogni stagione è incentrata su un personaggio specifico, comunque tutti adolescenti, e un po' come Baby affronta temi piuttosto seri, dal bullismo all'omofobia, dagli abusi sessuali, al body shaming. Anche Scam Italia è ambientata a Roma e quindi i personaggi parlano generalmente in italiano con accento romano, anche se qua e là si sente un po' di romanesco. C'è scritto tre messaggi oggi? Ah, eh sì, scusa, ho batterio scarico. Ma se eri online? No, non ero online, ho il cellulare morto da due ore. Io ti ho visto online. Eh, non lo so perché mi hai visto online. Ci sarà un problema al telefono, forse, non lo so. 5. Il commissario Montalbano. Montalbano è uno storico poliziesco prodotto dalla RAI che va in onda dal 1999, pensate, basato sugli storici romanzi gialli dello scrittore Andrea Camilleri. Ogni episodio è autoconclusivo, quindi non è necessario guardarla per forza in ordine cronologico. Il protagonista è Salvo Montalbano, commissario di polizia nella cittadina immaginaria siciliana di Vigata, che si trova alle prese in ogni episodio con i più svariati fatti criminosi. Si tratta di una delle serie tv italiane più di successo e più seguite. Non ho trovato Montalbano su Rayplay, ma c'è sulla BBC, per chi è in Inghilterra, altrimenti dovete trovare un altro modo di guardarla. Su Rayplay invece trovate il prequel, Il giovane Montalbano, che ha 12 episodi. La serie è in italiano, anche se molti personaggi parlano con un accento siciliano più o meno marcato, come lo stesso Montalbano, con qualche sicilianismo inserito qua e là. Lei dov'era ieri tra le dodici e le due? Arrisolveranno il caso nel giro di poche ore. Due serie bonus che alcuni di voi hanno indicato, che mi sento in dovere di menzionare, sono Gomorra e L'amica geniale. La prima è un'altra serie criminale, forse la più famosa serie criminale italiana, che racconta fatti di Camorra, quindi di mafia napoletana. E la seconda è una trasposizione dei celebri romanzi di Elena Ferrante, anch'essi ambientati a Napoli, ma negli anni 50. Le ho inserite perché sono entrambe ottime, almeno a me piacciono, ma sono per lo più napoletano, quindi non le consiglierei per imparare l'italiano. Potete comunque usare i sottotitoli. Ah, un altro consiglio utile per chi usa Netflix per imparare l'italiano o le lingue è quello di creare un profilo mettendo come lingua l'italiano. In questo modo vi verranno proposti solamente contenuti in italiano. Vi lascio un tutorial, se vi interessa come fare. E questi erano i miei, anzi i vostri consigli, di serie tv. Ditemi nei commenti. Le avete già viste? Vi sono piaciute? Ne consigliereste delle altre? Trovate tra l'altro qui sotto la lista delle altre serie che mi avete consigliato, nel caso aveste già visto tutte queste e ne cercaste delle altre. Vi ricordo due cose. La prima è che sul mio podcast Italiano Club troverete la trascrizione con il lessico difficile di tutti i miei video, nonché tanti materiali esclusivi, come il podcast di approfondimento di cui vi parlavo, che ha già 70 episodi. E a questo proposito ringrazio gli oltre 600 membri del club che vedete qui ai lati. E la seconda è provate NordVPN, che ringrazio per aver sponsorizzato questo episodio. Ora vado a vedermi anch'io qualche serie, quindi vi saluto, alla prossima. Ah, e se non l'hai visto ti lascio anche un video che ho fatto qualche tempo fa su come imparare le lingue usando YouTube. Ti potrebbe interessare. Lo trovi sullo schermo.